è stato doloroso il posto per azione quanto hai pagato più o meno signori buongiorno bentornati sul mio canale bentornati in un nuovo video amici come avrete visto dalla copertina e dal titolo oggi un video diverso dal solito un video che esce dalle solite video ricette che vedete solitamente sul canale i vari esperimenti le cotture tutto quello che volete ma un video che riguarda il mio avanzamento dei capelli esattamente come il primo episodio vi ho fatto un box delle domande sul mio profilo instagram chiedendovi se aveste curiosità sulla degenza su come si è voluto il tutto se ha fatto male quanto è costato tutte le varie curiosità che avete perché non vi nego che da quando è uscito il primo video sul canale moltissimi di voi non mi aspettavo mai tutte quelle persone lì mi hanno chiesto informazioni sia sotto il video che direttamente in direct su instagram oggi facciamo la seconda parte un anno dopo l'intervento perché ormai sono passati praticamente dieci mesi rispondo alle vostre domande e vi faccio vedere come si è evoluto il mio percorso dal giorno 1 dell'operazione fino ad oggi cominciamo subite con le domande perché me ne avete fatte parecchie voglio cercare di rispondere a tutte ma prima di cominciare a rispondere ricordo come sempre di supportare i video e canale con un semplice like un commento dove mi scrivete se avete altre domande o altre curiosità così da rispondere e rendere quanto più completo il video e di iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video di cucina e tutti gli esperimenti che troverete sul canale cominciamo la prima domanda ciao dove è eseguito il trapianto c'è la possibilità che i risultati non siano duraturi e a questa domanda gli attacchiamo anche per mantenerli usi dei prodotti quotidianamente se sì quali allora amici io il trapianto l'ho fatto in turchia e tu direi perché in turchia non in italia o non in un altro paese perché ho visto io era tanto tempo che nutrivo l'idea e la voglia di farlo perché mi sentivo a disagio non mi piacevo mi sentivo sempre in disordine e non mi sentivo appunto a mio agio ho visto il risultato di un mio amico che era completamente pelato adesso sembra riccardo cocciante quando ho visto il suo risultato sono rimasto esterrefatto e mi ha dato la molla per decidere a farlo io ho chiesto informazioni e lui mi ha indirizzato dove io l'ho fatta a istanbul nella clinica del dottor serca la dottor serca naigine clinica nel docu medical e vi dico la sincera verità voglio essere trasparente come sono sempre stato con voi non avrei dovuto fare il primo video l'ho fatto perché ho visto da parte vostra un forte interesse sull'argomento e tante persone tanti uomini che hanno vissuto le mie stesse emozioni ho deciso di fare il primo episodio il primo video che avete visto io penso e presumo la clinica abbia visto il video comunque tutte le persone molte persone che sono andate lì a fare il trapianto gli avranno detto di come hanno fatto a trovare la loro clinica la clinica stessa mi ha contattato mi ha ringraziato del video e della pubblicità che gli ho fatto in maniera diretta e non e mi hanno chiesto di collaborare di fare questo secondo episodio questo video è sponsorizzato dalla clinica appunto del dottor serkan a me la cosa che dispiace è non aver fatto clip all'interno della struttura durante il soggiorno perché io quel video non l'avrei dovuto fare e col senno di poi le avrei volute per farvi vedere tutto quanto io sotto questo punto di vista specialmente il punto di vista medico sono molto esigente vi dico la verità avevo aspettative alte non mi aspettavo così alte l'organizzazione nel venirti a prendere portarti in hotel la bellezza dell'hotel stesso l'organizzazione per portarti alla clinica la clinica che ok non vuol dire nulla però all'interno di quella struttura io ho visto proprio igiene pulizia organizzazione la bellezza della struttura che volente o nolente un po avvalora la scelta ti senti un po in un posto sicuro in un posto solido e questo per me avvalora un po la scelta fatta e ti rendi conto che la solidità della struttura è un po la solidità che ti trasmette l'equip medico c'è la possibilità che i risultati non siano doratori insieme al prendi qualcosa per mantenerli sì la clinica consiglia fortemente l'assunzione di una terapia la finasteride che io prendo da quando sono uscito dalla clinica e no non ho mai avuto problemi c'è un caso su 200 che può avere dei problemi ma nel momento in cui si stacca quella cura lì i problemi passeranno quindi state tranquilli che semmai doveste avere problemi tempo che staccate vi organizzate con un'altra cura non avete problemi io mi sento esattamente come prima e non ho problemi devi prendere qualcosa sì devi fare una cura perché perché vi rendete conto che se siete predisposti alla perdita dei capelli loro vi hanno fatto un autotrapianto prendendoli da dietro mettendoli davanti vi rendete conto che tutti gli altri capelli se geneticamente siete predisposti alla caduta dei capelli geneticamente vi cadranno i capelli quindi fate un po alla fine di niente secondo me una volta che cominciate questo percorso siete decisi di fare questo intervento perché a tutti gli effetti un intervento rotta per rotta vi conviene farlo come si deve e siete contenti e soddisfatti ok ne abbiamo risposte a due cosa succede effettivamente durante il trapianto io ho fatto un autotrapianto con la tecnica di hi ovvero è un autotrapianto vi faccio vedere anche dietro in sostanza come funziona mi hanno fatto un autotrapianto con la tecnica di hi ovvero con un pennino loro ti esportano i bulbi a fianco ci sono io mi pare che avessi visto due o tre infermieri che dividevano i bulbi in blocchi da dieci per farsi di non perdere il conto e di contare effettivamente quelli che avessero preso e una volta che ti hanno fatto l'esportazione di tutto ti fanno girare a pancia in giù nel mentre arriva l'interprete che ti chiede se vuoi mangiare qualcosa ti dà qualcosa da mangiare per farti ribeccare perché la parte dietro mi è durata più o meno un paio d'ore mangi qualcosa ti giri a pancia in giù e ti cominciano a fare l'autotrapianto dei capelli sempre con lo stesso pennino prelevano il bulbo e te lo vanno a impiantare direttamente come se fosse appunto una penna questo vi rendete conto che andando a fare con questa tecnica qui si lavora in maniera più precisi più veloci e è anche una possibilità minore che quando vai a fare il buco rischi meno di andare a ledere i bulbi che avevi già perché appunto fai un buco solo e sei più preciso e anche più veloce la parte davanti mi è durata più o meno quattro ore più o meno e la parte dietro due quindi totale dell'intervento sono stato dentro circa sei ore sei ore e mezza nel mentre state vedendo in sovraimpressione non avendo fatto clip registrate sto estrapolando frame dai vecchi video dove vi sto facendo vedere come è stato il decorso fortunatamente ho queste clip e potete vedere voi stessi come è stata l'evoluzione cioè io video dopo video vedevo cambiamento e l'ho notata anche voi perché mi scrivavate mi dicevate canna guarda che cambiamento che stai avendo ti sta crescendo il ciuffo ti stanno venendo i capelli io ero contentissimo perché guardando queste foto che sono le prime che gli ho mandato da un mese confrontandole volta per volta o guardandomi io stesso nei vecchi video mi fa molto strano sto vedendo finalmente il cappello che ho sempre voluto e non vi nego che chiaramente mi sento molto più a mio agio è stato doloroso il posto per azione no io non ho avuto male io ho avuto forse più fastidio durante l'intervento mi avevano dato 5 antidolorifici che forse ce li ho ancora di là non li ho mai usati ne ho utilizzato uno la prima sera perché chiaramente se un po più indolenzito ti lavorano sei ore sulla testa fa male gli altri giorni io non ho avuto praticamente nulla mi sono gonfiato leggermente ma niente di più alla fine la cosa forse che vi dico la verità è stata forse un po più scomoda è stato dormire una settimana con il collare perché chiaramente avendo i bulbi e avendo le ferite non ti potevi sfregare sul cuscino perché avrebbe fatto dei danni quindi la cosa più fastidiosa è stata una settimana con il collare ma quella passa adesso doveva passare john rambo la cosa più fastidiosa oltre come vi ho detto al collare che poi fastidiosa non è è un corretto decorso è appunto se fate attività sportiva come faccio io e facevo io dovrete fermarvi per un mese uno dei motivi che mi ha fatto procrastinare nella scelta nel fare il trapianto è stato appunto il sapere che mi sarei dovuto fermare dai miei allenamenti io faccio palestra sei volte alla settimana per almeno 30 giorni e questa cosa mi ha letteralmente turbato mi ha fatto molto riflettere sulla scelta se farlo o no perché non mi volevo fermare e avevo timore di perdere i risultati che avevo ottenuto ma come vi ho detto prima le emozioni la negatività le emozioni il disagio che ho provato era maggiore di questo stop quindi ho deciso di farlo mi sono fermato per il primo periodo chiaramente per i primi giorni vi consigliano fortemente di andare molto con calma per evitare appunto che abbiate degli sbalzi di pressione in testa e vi rendete conto che avete i bulbini piantati e meno sollecitazioni subiscono meno stress subiscono meno sbalzi subiscono più sarà corretto il loro attecchimento sulla vostra testa e avrete un risultato ottimale il discorso di prima è una volta che decidete di intraprendere questo percorso e questa scelta fatela nella migliore delle maniere nella maniera più consona per farsi appunto che i vostri bulbini che vi hanno piantato attecchiscano e in un secondo momento recupererete state tranquilli che se vi allenate da tanto o comunque se avete una buona memoria muscolare appena riprenderete dopo uno due mesi che riprenderete tornerete punto e a capo non avrete perso minimamente i risultati ma vi troverete con una bella chioma post intervento i capelli crescono se sì lentamente o normale e a questa gli attacco anche hai avuto shock loss lo shock loss che cos'è praticamente la caduta dei capelli effettiva loro ti vanno a piantare il bulbo lo shock loss io ce l'ho avuto nel senso che come state vedendo subito dopo io i capelli ce li avevo nel senso che i bulbini davanti cominciavo ad averli man mano che passa il tempo dovrete cominciare con i vari lavaggi e avrete chiaramente le croste dell'intervento seguendo il piano che vi darà la clinica c'è scritto dopo un tot di cominciare a massaggiare delicatamente massaggiare con un po più di intensità e mi pare che dopo più o meno dieci giorni voi possiate massaggiare in maniera normale in modo che le crosticine cadano farà favorire la cicatrizzazione di tutto quanto vi cascano le croste il capello comunque la pelle respira il processo migliora il processo va avanti e sì vi cadranno i capellini vi cadranno praticamente tutti i capellini all'inizio non vi nigo che ho avuto un po di timore gli ho mandato le foto all'assistente assistente che mi ha risposto tipo nell'arco di un giorno e mi ha detto di stare tranquillo che è tutto normale ed è tutto conseguenziale voi pulite vi lavate le crosticine cascano attaccate le crosticine cascherà il il capellino ma non il bulbo che vi è stato piantato in testa e man mano con il tempo cresceranno piano 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 e poi sarete tutti pari io i primi tre quattro mesi più o meno mi pare ero abbastanza non vi dico spelacchiato però si continuava a vedere il mio disegno originale dei capelli e qualche capellino nelle zone nuove man mano che passava il tempo questi capellini si robustivano si intensificavano e pian piano andavano a coprire tutta la zona nuova che loro mi avevano coperto quindi sì ho avuto lo shock loss per i primi per i primi due quattro mesi più o meno ero abbastanza spelacchiatino però era normale che fosse così però i capelli crescevano cioè nel senso tutti gli altri crescevano con la stessa intensità e regolarità di prima e quelli davanti pian piano crescevano cascavano e pian piano ricominciavano a crescere io ho cominciato a vedere i primi risultati la parte davanti diciamo più piena verso i 5 6 mesi più o meno da lì in poi è stato tutto un crescendo l'altro giorno ho sentito il ragazzo della clinica l'infermiera della clinica mi ha detto che i risultati che io oggi non sono ancora definitivi io adesso ho fatto nove mesi mi fa tu comincerai a vedere risultati importanti intorno all'anno 12 13 mesi più o meno quelli saranno risultati che saranno effettivi e duraturi quindi ancora da qui a 3 4 mesi ho ancora del margine di crescita quindi in sostanza la crescita è bene o male come quella di prima dopo quanto hai visto miglioramenti come ti ho detto effettivi 5 6 mesi più o meno cioè cambiamenti che tu dici ok ho fatto il trapianto sto cambiando adesso io li noto forte cioè confronto prima come potete vedere non vi dico che sembra un'altra persona però una condizione totalmente differente da quella che era prima semplicemente la consiglieresti questa è una bella domanda nel senso che solo chi ha vissuto le mie stesse emozioni o le emozioni di sentirsi a disagio per un qualcosa che non si sente suo ti dirà sì c'è qualcuno che giustamente non gli interessa niente il look estetico i capelli tutto quello che volete dice a me non interessa mi faccio a zero pace e ho finito e ci sta ben volentieri se vi sentite un disagio se vi sentite un qualcosa che non vi fa sentire confidenti con voi stessi e con gli altri vi fa sentire insicuri chiusi un qualcosa che a cui potete migliorare perché non farlo cioè se è un qualcosa che potete farlo e vi fa stare meglio vi fa vivere meglio perché non farlo io l'ho fatto perché ero arrivato a un punto dove mi sentivo sempre a disagio sempre in disordine ed è un qualcosa che mi ha mi ha chiuso molto vita sociale uscite fuori perché era qualcosa a cui io davo peso non vi nego che io ho sempre avuto una folle paura per gli aghi ed essere arrivato a farmi fare 10.000 punture più o meno in testa vi rendete conto che le emozioni sono state più forti della paura e questo appunto me l'ha fatto fare e dio benedico quel momento perché guardate che ciuffo che ho io direi di chiudere con questa perché forse quella più gettonata l'ho tenuto alla fine per chiudere in bellezza quanto hai pagato più o meno dove l'hai fatto che l'ho già detto e ne sei contento o no allora ne sei contento o no sì tanto molto non vi nego che adesso registrare è diventato un piacere nei vecchi video forse qualcuno ci ha fatto caso ma tendevo sempre a tener la telecamera in una determinata maniera per cercarsi che si notasse meno che avessi pochi capelli che pochi che avevo non erano il massimo e quindi sì è qualcosa che riguardando video e riguardandolo adesso qui con voi mese dopo mese mi fa mi fa strano e mi fa vedere quanto effettivamente mi abbia cambiato e anche ringiovanito perché mi fa sembrare effettivamente più piccolino l'ho fatto come vi ho detto al docu medical del dottor serkan e per chi volesse io qui sotto nell'infobox vi lascio tutti i loro contatti per contattarli anche solo per un preventivo per chiedere informazioni per vedere le modalità di lavoro che hanno per vedere il servizio che vi danno tutto quanto è una roba velocissima io in quattro giorni ho fatto tutto io sono arrivato il primo giorno ho mangiato ho fatto un giro per istanbul ed è meravigliosa mi è piaciuto tantissimo il giorno dopo mi hanno fatto subito visite e trapianto quindi dopo 12 ore che ero lì il giorno dopo ancora ho fatto le visite e le medicazioni il giorno dopo ancora ho fatto gli ultimi controlli e poi ero libero il giorno dopo sono partito quindi in quattro giorni ho fatto tutto quindi non vi prende neanche chissà quanto tempo poi dovete stare un paio di settimane a riposo è normale ci sta perché vi fanno comunque un intervento però è una roba veloce quanto hai pagato più o meno io ho pagato dell'intervento indicativamente mi pare 3.200 3.300 euro più o meno se non ricordo male a questi 3.200 euro gli ho aggiunto 500 euro che è stato il costo per portarmi un il mio miglior amico dietro per il volo per l'hotel e tutto quanto e in più ho preso la valigetta il kit che hanno consigliato loro il kit di medicine che hanno consigliato loro per il posto operatorio che mi è costato mi pare 200 euro più o meno indicativamente 4.000 euro di intervento tra tutto poi se avete spese accessori spese di soggiorno andate al gran bazar vi fate un giro quello che volete quello lì è un extra che chiaramente lista di persone in persona per chiudere il video vi voglio dare una parola di conforto che forse era la stessa che avrei voluto io se vi sentite a disagio se non vi sentite confidenti con voi stessi con gli altri se i vostri amici non concepiscono questo vostro disagio o ve lo sminuiscono state tranquilli tranquilli che tutti nell'armadio abbiamo i nostri scheriti se è un qualcosa che vi dà fastidio ed è un qualcosa che vi può migliorare la vita facendovi stare più sereni fatelo si vive una volta sole se è un qualcosa che vi può migliorare la vita secondo me conviene farlo almeno io l'ho fatto e ne sono contento poi potete stare tranquilli fidatevi di me che quando passano 6 8 mesi e voi vi presentate a vostri amici questo ciuffo qui vi chiederanno informazioni e dove l'avete fatto signori miei io spero di avervi detto tutto quello che volevate sapere tutte le informazioni più interessanti e posso avervi sbrogliato qualche dubbio se avete dubbio curiosità sull'intervento e tutto quanto scrivetemelo oppure mi scrivete su instagram vedo di rispondervi quanto prima se volete semplicemente informazioni un preventivo la modalità di organizzazione come volare la base in sostanza come vi ho già detto sotto qui trovate tutte le informazioni tutti i contatti della clinica li contattate diteli che vi mando io così magari se siamo effettivamente in tanti ci danno un codice scontri risparmiamo un po' tutti quanti io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato spero di essere stato esaustivo ed avervi risposto è tutto quello che volevate sapere vi ricordo come sempre di supportare il video e il canale con un like un commento e di iscrivervi al canale accendendo la campanella che i prossimi video sono di cucina promesso ciao